E sono 8.000 i posti di lavoro direttamente a rischio nella filiera della componentistica in Piemonte con l'elettrificazione, mentre altre 32.000 occupati sono impiegati in produzioni che dovranno subire delle modifiche. Il numero emerge incrociando i dati dell'Unione Industriale e della Camera di Commercio. Sentiamo Fabio De Ponte. Il Piemonte guarda lo stop ai motori a combustione prevista salvo correzione di rotta nel 2035 e fa i conti con l'urgenza di avviare la riconversione. La questione sul tavolo è quante sono le imprese coinvolte. La componentistica nella nostra regione, secondo i dati dell'ultima rilevazione della Camera di Commercio, conta 737 aziende che danno lavoro a 56.700 addetti circa. Parliamo di un giro d'affari del settore che sfiora i 16 miliardi di euro. Ma quante di queste sono a rischio con l'elettrificazione? Qualche risposta arriva da uno studio dell'Unione Industriale condotto su un campione di 372 aziende, vale a dire in pratica la metà del totale. A occuparsi direttamente di motore endotermico sono 70 aziende per un numero di addetti pari a circa 4.000 a cui si aggiungono quelle che avranno la necessità di introdurre comunque modifiche significative alla produzione che impiegano altri 16.000 addetti. Insomma, l'analisi prendendo in considerazione la metà delle aziende conclude che il problema riguarda 20.000 occupati, il che vuol dire che sul totale delle imprese potrebbe riguardarne circa 40.000, 8.000 dei quali a maggiore rischio. Che fare? Le ipotesi potrebbero essere diverse. Le imprese coinvolte direttamente sul motore, ipotizzano gli esperti, potrebbero per esempio guardare al mercato navale o alle macchine agricole o ragionare, come suggerisce lo stesso commissario europeo Thierry Breton, sull'export extra-europeo. Le altre dovrebbero subito avviare le necessarie modifiche, considerando che l'elettrico consente anche molte sinergie con altri settori che potrebbero aprire nuove opportunità. Una riorganizzazione non da poco per affrontare la quale però il Piemonte ha 12 anni di tempo.